Emergenza coronavirus ed iniziative a sostegno di chi ha subito maggiori conseguenze derivanti dall'attuale situazione. Anche l'amministrazione comunale di Cosenza adotta dei provvedimenti. Vediamo. Oltre al sostegno governativo per le famiglie meno abbienti nell'ambito dell'emergenza coronavirus, le varie amministrazioni comunali si sono attivate, come quella di Cosenza già da tempo, attraverso proprie iniziative, a partire dallo stanziamento di propri fondi alla collaborazione con associazioni che operano nel settore del volontariato. Noi per la verità avevamo già aperto una porta sociale con la distribuzione di oltre 500 pacchi per la spesa a famiglie che erano già in difficoltà. Lo abbiamo fatto insieme al Banco Alimentare, insieme al Centro di Servizi del Volontariato, insieme alla Carità Assidio Cesana e anche alla Casa di San Francesco di Assisi. quindi è operativo, era già operativo prima che lo Stato desse ai comuni questa disponibilità finanziaria per affidare poi alle famiglie una somma legata ai buoni spese, quindi può sentire a chi si è trovato in difficoltà in questo momento. Voglio ribadirlo che questa misura non è un sostegno alla povertà in genere, perché ci sono altre misure di sostegno come il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, ma un sostegno a chi ha avuto delle difficoltà proprio a seguito di questa emergenza del coronavirus. Un sostegno, prosegue il sindaco Mario Chiuto, quello governativo nei confronti dei piccoli imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti di piccole società che avranno diritto alla cassa integrazione in deroga. Cioè a chi si è trovato in questo momento per il coronavirus in difficoltà economica e quindi non può fare la spesa. Chiuto poi ritorna sulla misura governativa ribadendo di come presenta alcuni punti poco chiari. Lo Stato diciamo che a un certo punto con una conferenza stampa il governo ha anticipato che ai comuni sarebbero arrivati 4 miliardi e 200 milioni, in effetti non erano questi perché erano solo i 400 milioni suddivisi per tutti i comuni italiani per questa solidarietà alimentare. Le altre risorse sono risorse che già i comuni hanno, dovevano essere erogate a maggio e sono state erogate adesso e quindi sostanzialmente c'è un mese di anticipo, diciamo, le somme che erano già dovute di trasferimenti dello Stato che era una sorta di misura anche di compensazione che era stata attuata all'epoca dal governo Monti proprio quando sono state tagliate le risorse comuni e anche per quanto riguarda l'IMU. Quindi sono somme dei comuni che servono per il funzionamento, cioè il pagamento degli stipendi, servizi comunali, insomma, quindi niente che centri con questa misura qua. I 400 milioni sono una somma, comunque un primo passo, ma noi abbiamo ritenuto insufficiente perché chiaramente le misure da prendere sono altre e adesso vedremo in questo decreto aprile se ci saranno altre misure a sostegno dei lavoratori che sono trovati in difficoltà.